Il problema fondamentale rimane quello del titolo che noi abbiamo in questo convegno, cioè il non riconoscimento della violenza maschile sulle donne e per questo diventa invisibile. Il rapporto che c'è tra il mondo della giustizia e i giornali, che molte volte si rimbalza, e quindi ci sono degli stereotipi terribili che noi ritroviamo nelle aule di tribunale, riportiamo sul giornale, oppure i giornali cominciano a fare i processi sulla carta stampata e quindi poi il mondo della giustizia si trova condizionato da questo. Ci sono stati dei casi eclatanti su questo, prendo uno a caso, quello della violenza subita, violenza sessuale delle due ragazze americane a Firenze, ne abbiamo parlato tante in tanti corsi, ecco per esempio lì la mattanza che è stata fatta sulle due ragazze, quindi si parla di un caso eclatante di vittimizzazione secondaria attraverso appunto il racconto giornalistico su queste ragazze che sono state chiamate bugiarde, che avevano un'assicurazione che invece non era vero, quindi non c'è stata neanche la premura di andare a vedere se le notizie erano valide o meno da parte dei colleghi o delle colleghe, insomma abbiamo avuto un processo mediatico su queste due ragazze, quando poi i responsabili sono anche stati puniti, c'è stato un trafiletto sui giornali, lì invece abbiamo visto i paginoni per cui in fondo le ragazze e le donne se la cercano, vanno in giro scollate, vanno in discoteca, bevono, fanno sesso e poi dopo denunciano i poveri uomini che si trovavano lì, dice che fai non approfitti. Questo quadro che noi abbiamo avuto che è stato scandaloso ha procurato su queste ragazze una fortissima sofferenza, non solo, ma è stato fatto un incidente probatorio dove gli avvocati di difesa hanno avuto l'ardire proprio perché appoggiati da questa cultura che probabilmente insomma noi anche in buona fede, perché i colleghi sono in buona fede, un problema di formazione come per i magistrati, questo piattino che era stato fatto per cui gli avvocati hanno fatto domande sulle malattie venerie, se quella sera portavano le mutandine, se erano affascinate dalle divise, quindi delle domande che ovviamente il giudice ha respinto, ma sono state fatte provocando su di loro un'altra violenza, una nuova violenza, una violenza tra l'altro all'interno di un'istituzione che invece avrebbe dovuto proteggerle.